Il percorso Azzurro 2022 è la campagna nazionale di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili della Lilt per la cura e la promozione di azioni di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione maschile sulle principali patologie oncologiche. Di fatto l'80% degli italiani non ha mai fatto una visita urologica e per questo si può prenotare la visita gratuita ad uno specifico link dedicato. La campagna percorso Azzurro 2022 della Lilt è una campagna nazionale per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili. È rivolta agli uomini oltre i 50 anni per la diagnosi precoce del cancro della prostata. Gli uomini di questa età sono più restie ed ecco perché interveniamo in maniera decisa perché loro partecipano alla campagna e poter così avere una possibilità di cura con un'alta percentuale di guarigione. La campagna è estesa anche ai giovani. I giovani perché vogliamo sostituirci a quella che una volta era la visita di leva dove tra i 16 e i 20 anni i ragazzi venivano sottoposti ad un'indagine che metteva in un'altissima percentuale di loro una patologia andrologica. Noi ci indirizziamo in maniera specifica alla ricerca del cancro del testicolo ma anche ad altre patologie associate che questi soggetti possono avere che una volta messi in luce possono essere ben trattati. La campagna è dedicata anche ai ragazzi al di sotto dei 20 anni per la prevenzione del tumore visto che meno del 5% di loro ha fatto una visita urologica. I dati epidemiologici indicano che gli individui di sesso maschile si ammalano e muoiono più di cancro di quanto non accada alle donne. Il cancro alla prostata presenta il 18% dei tumori diagnosticati nell'uomo. La diagnosi precoce sta portando negli ultimi anni ad un grande rallentamento della malattia. I controlli vanno fatti a partire dai 50 anni di età così da intercettare per tempo l'eventuale malattia o escluderne la presenza e intervenire in tempo significa avere una maggiore curabilità della malattia.